Per quanto riguarda il percorso di mountain bike, perché sono a piedi e sicuramente non sarei al livello di loro neanche se volessi, però il percorso di mountain bike è stato molto impegnativo e anche se con brevi chilometri, 60 chilometri, siete comunque riusciti a rendere un percorso tecnico, divertente e da provare anche per un futuro per gli altri. Siamo Alba, che ha corso la parte podistica? Ma io correndo a piedi posso dire che il percorso mi è piaciuto, è impegnativo, però era senz'altro bello e meritava. Vedremo di vederti con il prossimo anno magari. Grazie mille. Luca? Ma anch'io sono rimasto colpito dal percorso, a dire la verità pensavo di venire a fare una campestre, invece era una gara di corso in montagna vera, tecnica, veloce ma tecnica, aveva tutto a posto. E niente, è una bella gara e magari ci vediamo al prossimo anno. Grazie mille. Milko? Io direi che la manifestazione sia riuscita molto bene, raccogliere così tanti atleti, così tante persone, penso che non sia facile anche per voi, avete fatto un ottimo lavoro. Mi ripeterei che questo percorso è bellissimo, offre veramente scenari fantastici e quindi secondo me merita molto partecipare. Grazie mille a tutti i ragazzi. Grazie. Grazie. Graciasi Marco.